Oggi vi faccio vedere e vi spiego tre esercizi per i piegamenti in verticale liberi ragazzi questi qua sono tra gli esercizi che reputo più utili per apprendere questo gesto motorio che molti trovano ovviamente difficoltà in primo luogo ragazzi non saranno esercizietti del cazzo che avete già visto in mille altri video di colli dritti, esercizi al muro, i pike stand push up, tra l'altro anche io ne ho parlato ovviamente ho fatto già altri contenuti su questo ma saranno degli esercizi già che si improntano liberi, sulla verticale libera cioè esercizi sul pratico da fare per sbloccare questo esercizio quindi in primo luogo dovrete avere la verticale anche se in realtà vi ho già trovato uno stratagemma per ovviare a ciò se non avete una verticale ancora bella solida che vi consiglio di avere se volete apprendere questo gesto potrete eseguire l'esercizio con i piedi in mezzo ad una sbarra cioè vi mettete sotto una sbarra, ci mettete i piedi in mezzo e potete eseguirli lo stesso allora il primissimo esercizio, non ci perdiamo in chiacchere scimmia subito il primissimo esercizio sono delle eccentriche di piegamento in verticale eccentriche lente, ragazzi, con sovraccarico ok? ci andiamo a zavorrare perché? ecco, già vedo quelli che stanno sorcendo il naso quelli che hanno letto ieri il libro di scienze motorie che diceva no, gli esercizi a corpo libero non vanno zavorrati vi spiego il motivo allora voi dovete costruire forza su un dato gesto motorio ok? sicuramente sono molto utili, military press, tutte le altre robe che è andata a fare però se vogliamo costruire forza in un gesto motorio specifico ok? la cosa migliore è replicare quel gesto motorio se siamo in una verticale libera e vogliamo creare un giusto adattamento e percepire realmente di stare lavorando con i muscoli corretti l'eccentrica, ragazzi, sono sempre l'esercizio che anche sui libri di colli dritti troverete scritto ok? l'eccentrica è l'esercizio per costruire forza primordiale va bene? sicuramente lo starete già eseguendo ma non avete tratto risultati giusto? giusto quindi andiamo a fare un'eccentrica lenta però con sovraccarico quindi andiamo a costruire forza nell'eccentrica noi ce ne fottiamo che dobbiamo fare anche la concentrica ci pensiamo dopo, negli altri due esercizi ci pensiamo andiamo ad eseguirlo con un sovraccarico che ci permetta di costruire forza su quel dato movimento e a farlo lento ovviamente quindi creeremo una progressione di forza su quello quindi adesso a titolo dimostrativo io mi zavorrerò prenderò due chili e mezzo a titolo dimostrativo e vi farò vedere un'eccentrica lenta come va eseguita perché poi vi farò anche vedere adesso gli errori perché poi ci sono ovviamente anche gli errori quindi zavorra innanzitutto come si mette la zavorra per andare in verticale la si posiziona davanti legata molto stretta perché altrimenti ci finisce in faccia dritti sul naso ci andrà a finire quindi legatela stretta ok? fate una prova vedete? a me qua non può arrivarmi in faccia è impossibile ci andiamo a piazzare con le mani a terra ah consiglio per i piegamenti in verticale percepite bene la tensione vabbè un consiglio anche per la verticale la tensione sui polpastrelli è importante perché se lo spostate sui palmi tutto il peso quando fate il piegamento in fase di risalita ritornate indietro ok? però adesso focus su eccentrica quindi innanzitutto dobbiamo andare in verticale non deve partire l'eccentrica fin tanto che non siamo su in verticale stabili ok? quindi su verticale sono stabile ok? perfetto percepisco il peso sui polpastrelli incomincio a scendere lentamente piccola isometria raso terra giù ok? ok? questa cosa si può fare per più ripetizioni va bene? ora io non so se sto parlando con Luigi con Franco con Gianluca non so con chi sto parlando quindi ovviamente sono degli delle spiegazioni generiche ok? se volete un qualcosa di personalizzato su di voi per quello c'è il mio servizio di coaching online quindi contattatemi in privato per il coaching online per email su Instagram vi verranno girate le informazioni e starà a voi valutare ok? quindi qua giustamente le spiegazioni che faccio andranno contestualizzate al vostro caso quindi se volete mettere 20 chili io questo non lo so se potete farlo se potete fare 20 chili secondo me siete però un po' forti quindi questa eccentrica la possiamo eseguire ad esempio per tre ripetizioni ovviamente ogni volta dovremmo ritornare in verticale con lo slancio ok? perché non eseguire? beh Cristina perché non la posso eseguire pancia al muro schiena al muro perché è un'altra cosa per quello sì va bene potenziare al muro il piegamento in verticale ovviamente però è diverso è differente ok? è un altro movimento se noi ci abituiamo con un peso maggiore a eseguire un'eccentrica lenta controllata l'eccentrica è lo stesso movimento al contrario della risalita ok? quindi stiamo adattando nel vivo stiamo proprio entrando nel vivo sulla carne va bene? quindi questo è per quanto riguarda il primo esercizio adesso il secondo me lo so scritto ma non lo ricordo a memoria perché dunque eccolo lì il secondo esercizio ah questo è bello eh questo è un bel esercizio questo è anche difficile è sempre un'eccentrica però dovremmo fare tre fermi nell'eccentrica cioè ci blocchiamo durante la discesa per tre volte adesso mi zavorro fermali scimmia fermali è pericoloso dunque l'eccentrica la dovremmo fare come prima ma ovviamente i gomiti vanno chiusi tutte le cose da collo dritto che già non le ripeto ragazzi perché già le sapete ok? se non le sapete non so cosa dirvi gomiti vanno chiusi non vanno così così ok? cioè mi farebbe strano vedere uno che approccia i piegamenti in verticale non sa come vanno tenuti i gomiti ok? quindi andiamo a scendere iniziamo a scendere ci dobbiamo bloccare tre volte per darvi dei punti di riferimento la prima primo blocco a un quarto di movimento quindi quasi appena siamo partiti partiamo qua già ci blocchiamo ok? il secondo lo facciamo a mezzo movimento ok? mezzo movimento ovviamente in relazione al piegamento in verticale a terra perché ho qualche furbetto eh ma già il piegamento in verticale se non è eseguito su un rialzo e mezzo movimento ok va bene però in relazione a quella terra mezzo movimento ok? quindi quando siamo più o meno a metà di distanza tra dove eravamo in partenza e il suolo ci blocchiamo nuovamente l'ultimo invece blocco lo facciamo testa raso terra ogni blocco decidiamo di stare due secondi tre secondi non lo so dipende dal vostro livello questo ok? ma è brutto il microfono qua scimmia? no bene riprendi bene riprendi riprendi bene questa la voglio bella scimmia quindi vado su stabilizzo non parto mai prima di essermi stabilizzato inizio a scendere blocco uno due uno due uno due si vedevano più o meno gli ho azzeccati sì 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 io tra l'altro un esercizio che personalmente non l'ho mai fatto la prima volta in vita mia che lo faccio io non l'ho fatto perché? perché quando io ai tempi ho iniziato ad allenarmi ho imparato tutte queste cose qua da solo ok? non c'era informazione cioè non esistevano non c'era un mister forense che vi portava la spiegazione per ogni cosa e vi faceva imparare tutto non esisteva non esisteva ragazzi sono nato per sono nato dalle macerie sono sorto dalle ceneri di questo sport in decadenza sporco ok? ultimo esercizio e qua qua mi caschi dal pero scimmia qua mi caschi dal pero questo è lo zaino della scimmia ci mette dentro le banane quando le va a raccogliere ultimo esercizio andiamo a fare dei piegamenti in verticale completi quindi anche con risalita però però con un rialzo sotto la testa quindi limitiamo il movimento facciamo più o meno anche qua sta a voi scegliere quanto limitare io vi consiglio di mettere un qualcosa di non come uno zaino come riferimento ma mi è cascata dal pero la scimmia che non ha portato dei riferimenti esatto i libri ad esempio quelli dei colli dritti vanno bene da mettere come rialzo che vi limitino il movimento anche a un rom proprio ridicolo ok ridicolo da lì quello sarà il vostro parametro trovate il punto dove riuscite anche a risalire però però dovete risalire con una tecnica corretta perché magari non salite non perché non avete la forza ma perché state sbagliando tecnica perché mettete il peso sul palmo quindi tecnica prima di tutto quando avete trovato il vostro livello di forza nel range potenziate lì insieme anche alle eccentriche perché dovete pigliare il movimento completo insieme anche gli esercizi di pancia al muro che ho spiegato in altri video e pian piano provate a togliere un libro o strappate una pagina di un libro così lo abbassate ok strappate un capitolo ad esempio ok è utile questa cosa qua quindi adesso andiamo ad eseguire vi faccio vedere con il riferimento lo zaino tra l'altro non so neanche se riesco perché mi confonderà di sicuro cioè non lo tengo così prendo il riferimento la punta lì si vede bene scimmia? quindi prendete anche la distanza la misura io ad esempio a occhio così qua va bene proviamo vado su stabile ok scendo sempre lento tocco su tocco su stavano mangiando ok signori sono stato abbastanza chiaro tu scimmia che dici? chiaro? chiarissimo ma hai ripreso bene adesso vorrò far vedere magari nuovamente una cosa perché vorrei che tu scimmia mi riprendessi bene magari in un'esecuzione di estime push up completo per fare la foto di copertina ok quindi andiamo adesso mi appresto a vedrete l'esecuzione di mister forense è brutto? è bruttissimo per tutto il tempo l'ho coperto col tuo lopo ma sì pazienza pazienza dai seguiamo una completamente che qua sta anche venendo la luce rossa oggi è rosso il cielo si vede a me ci sarà il color correction non si vede niente tra l'altro qua ragazzi è anche complicato perché c'è il terreno che è indisce cioè sì perché è storto è un problema perché sono tipo le piste da corte eh sì è un aciclabile stabilizziamo sentiamo controllati e si risale ecco è facile perdere la cognizione salvala salvala no c'è il terreno che è tutto dislivellato perfetto ragazzi io direi che si può anche concludere qua spero di esservi stato d'aiuto se fate acquisti dal sito di MyProtein utilizzate il mio codice sconto MAIFORENSE per usufruire di tutte le scontistiche che la piattaforma vi offre col mio codice sconto MAIFORENSE sul sito di MyProtein vedete oggi il distintivo largo ok tu scimmia eh buono mi sei piaciuta oggi complimenti meglio di Franco vero? sì Franco avrebbe avuto vari problemi con sto video cioè non capiva bene la cognizione però vabbè basta ragazzi io direi che oggi si è detto tutto per oggi anche qua vi saluto ciao ciao canta il ritmo ti spezza il fiato ma ogni stai dietro ti ha superato le bracci di molde ti schiaccia la fronte lui ma infatti mi strada lui è mister mister cubri se Grazie a tutti.